Ciao ragazzi! In questo video vedrete il risultato della ristrutturazione di un vecchio appartamento di circa 50 metri quadrati, con il progetto dei lavori, il confronto degli ambienti prima e dopo la ristrutturazione e i dettagli di arredi e materiali utilizzati. Lasciate un mi piace e iniziamo! Come prima cosa vediamo la pianta dell'appartamento prima dei lavori. Si tratta di un'abitazione di circa 50 metri quadrati costruita negli anni 60. Fino a quattro mesi fa l'appartamento aveva un'entrata con ingresso e disimpegno, alla sinistra dell'entrata c'era il soggiorno, di fronte all'entrata si trovava una piccola cucina di 8 metri quadrati separata dal soggiorno, tramite il disimpegno si arrivava al bagno finestrato con vasca e infine alla camera da letto matrimoniale. L'appartamento aveva anche un piccolo ripostiglio di circa un metro quadrato e un poggiolo nella zona del soggiorno e della cucina. Le finiture, i materiali e gli impianti erano quelli originari degli anni 60. Le sole eccezioni erano il portoncino blindato e le finestre in legno, che erano stati cambiati in tempi più recenti. A livello di pianta il progetto prevedeva un paio di modifiche. Quella principale era la demolizione della parete che separava soggiorno e cucina, in modo da creare un unico ambiente open space, e poi c'era la demolizione della parete frontale del ripostiglio. La ristrutturazione ha richiesto circa 4 mesi di lavori e in fase di demolizione sono state abbattute tutte le pareti e non solo quelle di progetto, perché le pareti originarie erano in gas beton e le nuove tracce degli impianti avrebbero indebolito troppo i blocchi di gas beton. Mi riferisco soprattutto alle tracce relative al bagno e alla cucina, quindi la cosa migliore era abbattere tutto e rifare le tre tramezze dell'appartamento. Tutte le nuove pareti sono fatte di cartongesso, non sono state usate delle lastre standard, ma delle lastre composte da gesso e additivi speciali nel nucleo. Il sistema parete finale possiede un'elevata resistenza meccanica, nello specifico un'ottima resistenza all'urto e alla tenuta dei carichi, resistenza al fuoco dovuto alla composizione della lastra, isolamento acustico che si ottiene abbinando le lastre a un pannello rigido in lana di roccia che contribuisce all'incremento delle prestazioni acustiche e anche di sicurezza in caso di incendio, e infine la resistenza all'umidità, sempre grazie alla composizione della lastra. Pavimenti e massetto sono stati demoliti solo dove era necessario, ovvero in bagno e nel disimpegno. Si tratta di due ambienti con molti impianti distribuiti a pavimento e quindi non aveva senso fare delle tracce, mentre per le altre stanze si sono create le tracce a pavimento. Passiamo al risultato della ristrutturazione, e iniziamo dalla zona giorno. Appena entrati si nota subito la differenza rispetto a prima, adesso c'è un soggiorno cucina open space di 31 metri quadrati. In questo caso le riprese hanno il grandangolo e quindi c'è un certo effetto di ampliamento dell'ambiente, ma vi garantisco che anche dal vivo è stato un bel colpo d'occhio, perché oltre allo spazio sono cambiati anche i colori e le finiture e non c'è più la parete che fa da ostacolo alla diffusione della luce naturale. È stata invece creata una separazione tra zona giorno e zona notte. Prima dei lavori il disimpegno aveva un accesso diretto a tutti gli ambienti della casa, mentre ora c'è una porta che divide le due zone dell'appartamento. Il ripostiglio non ha più la parete frontale, come era previsto dal progetto, anche se a breve questo spazio verrà chiuso con dei pannelli scorrevoli in vetro, che nell'apertura non occupano spazio sul disimpegno. Un'alternativa ai pannelli in vetro potrebbero essere i pannelli in legno o i derivati del legno, oppure delle tende scorrevoli o a rullo. La superficie del ripostiglio è pressoché identica prima, quindi poco più di un metro quadrato. Come vedete c'è lo spazio per una lavatrice con carica dall'alto e rimane anche dello spazio per delle scope o per altri attrezzi per la pulizia. Nel ripostiglio è stato sistemato anche lo scaldacqua elettrico da 80 litri, che prima era in bagno e che per motivi di estetica è stato spostato nella zona del ripostiglio. Vi ricordo che la superficie del ripostiglio è circa un metro quadrato, non vi serve molto spazio per ricavare uno sgabuzzino e se volete trovare il modo per creare il vostro ripostiglio date un'occhiata alla descrizione dove trovate il mio video su questo argomento. Proseguiamo nel giro e andiamo in fondo al disimpegno, dove troviamo la camera da letto matrimoniale, una camera che non ha subito modifiche a livello di metratura. È una stanza di forma rettangolare con il letto e l'armadio sistemati nella posizione più funzionale. Per concludere il tour vediamo come si presenta il bagno, che prima dei lavori aveva questo aspetto, ovvero un locale con finiture ed impianti che risalivano alla costruzione del condominio. Come vedete è diventato un bagno con doccia, la vasca non c'è più, ed è stata modificata anche la disposizione degli elementi. In particolare la doccia in fondo e gli altri sanitari sono tutti sistemati sulla stessa parete. Appena entrati c'è il mobile lavabo sospeso con i cassettoni e il piano lavabo integrato. A seguire il bidet e il wc a terra e filo muro e accanto al water è stato posizionato l'idroscopino, un accessorio di cui ho già parlato tante volte e che serve a pulire l'interno della tazza. Il piatto doccia è in appoggio ed è largo 160 cm x 80 di profondità. È un piatto fatto di tecnogel che appartiene alla categoria dei solid surface, un materiale caldo e molto piacevole al tatto, che volendo si può tagliare a misura e che quindi potete mettere anche in angoli del bagno dove magari ci sono dei pilastri sporgenti, oppure in un bagno con delle pareti diagonali. All'interno della doccia è stata ricavata una nicchia dove riporre shampoo e bagno schiuma. La nicchia in sostanza è l'alternativa alle classiche mensole per la doccia, anche se poi è molto più di un semplice piano di appoggio per flaconi e volendo si può ricavare anche in altri punti del bagno, non solo all'interno della doccia. Sul canale trovate anche un video con tutti i pro e i contro di questa soluzione. Come avete visto il termo arredo è nella doccia. La proprietaria ha detto che si trova bene con questa soluzione, che personalmente consiglio solo nei casi di piatti con lunghezza generosa, tipo questa situazione dove il piatto è lungo 1,60 m. I rivestimenti delle pareti sono in grass. È stato scelto un modello esagonale con vari toni di grigio che si accostano al tono del pavimento, a quelli del mobile lavabo, del piatto doccia e del termo arredo. Tutto l'appartamento ha lo stesso pavimento. Si tratta di un grass porcellanato effetto cemento di formato 90x90, quindi un formato piuttosto generoso, e si è scelto di puntare su un unico colore e un unico modello di pavimento di grandi dimensioni per creare una superficie omogenea e continua, che dovrebbe far sembrare più grande l'appartamento, ovviamente col contributo di altri elementi. Tra questi elementi troviamo innanzitutto il portoncino d'ingresso e le nuove porte interne, che hanno un'anta effetto rovere bianco abbinata a delle maniglie con finitura cromo satinato. Poi ci sono le nuove finestre e porte finestre in pvc, che all'esterno hanno un effetto legno che si adegua alle altre finestre e porte finestre del condominio, mentre all'interno sono bianche con maniglie abbinate a quelle delle porte. Oltre alle finestre sono stati cambiati anche gli avvolgibili, che ora sono in alluminio e motorizzati, con apertura e chiusura controllate dagli interruttori. Sono stati cambiati i copri avvolgibili e sono state installate delle zanzariere, sia su finestre che su porte finestre. È stato realizzato l'impianto di condizionamento, con due unità interne e un'unità esterna sul poggiolo, e ovviamente gli impianti originari sono stati rifatti. L'impianto elettrico prevede un nuovo quadro, punti luce, prese e interruttori disposti secondo le esigenze della cliente, con placche bianche per tutto l'appartamento, ad eccezione del bagno. Anche i vecchi termosifoni in ghisa sono stati cambiati e ora ci sono dei radiatori tubolari bianchi in acciaio al carbonio. Le ultime opere riguardano controsofitti e illuminazione. I ribassamenti in cartongesso sono presenti nella zona giorno e nel bagno e all'interno dei controsofitti sono stati inseriti dei faretti in casso e degli strip led. Questo era il risultato della ristrutturazione. Se la trasformazione vi è piaciuta lasciate un mi piace e scrivetemi la vostra opinione nei commenti. Ringrazio la proprietaria che mi ha permesso di raccontarvi la sua nuova casa e ringrazio gli amici dell'impresa Armonie che si è occupata dei lavori. Se dovete ristrutturare casa a Padova e provincia potete contattare Armonie e nella descrizione trovate i loro riferimenti con degli altri video sulla ristrutturazione e sull'arredo. Noi ci vediamo nella prossima puntata sempre qui su Voglia di Ristrutturare. Un saluto a tutti da Lorenzo. Ciao ragazzi! Grazie a tutti!